Buongiorno, bentrovati al nuovo appuntamento con Mattino 6, martedì 25 agosto 2015, apriamo con il quotidiano Il Centro, la nostra rassegna stampa, l'edizione di Pescara, vedremo le prime pagine delle quattro edizioni del quotidiano d'Abruzzo, poi passeremo al messaggero, apriremo come sempre con la cronaca nazionale, poi nella seconda parte guarderemo, andremo a leggere insieme le pagine delle cronache regionali e provinciali dei nostri quotidiani, Centro, Messaggero e Il Quotidiano, La Città. Allora apriamo con il Centro, edizione di Pescara, vediamo i titoli principali della prima pagina proprio dell'edizione pescarese del Centro, tanti gli argomenti che vengono affrontati in questa prima pagina del quotidiano d'Abruzzo che vedremo inquadrata fra qualche istante. Eccola qui, mare sporco, clienti in fuga, Pescara balneatori all'attacco verso la richiesta di danni, si continua a parlare ormai da giorni di questa vicenda. E poi la fotonotizia, giochi in spiaggia, 11 giorni di movida tra feste e concerti, il 28 agosto partirà la prima edizione dei giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, edizione che si terrà a Pescara, questa mattina alle ore 11 ci sarà la conferenza stampa di presentazione. Poi le cronache, il caso, lavori bloccati ultimatum per Guerino, la cronaca al colle ladre inseguite dai pitbull, il colpo fallisce. Poi il calcio, il Cagliari vuole soffiare Salamon al Pescara, vi avevamo dato conto di questa notizia nei nostri TG di ieri, quella di oggi dovrebbe essere la giornata giusta per capire se Salamon tornerà a Pescara oppure si trasferirà nell'isola. Lasciamo allora l'edizione di Pescara del centro, andiamo a vedere, lo faremo tra qualche istante, l'edizione di Chieti, Lanciano Vasto del quotidiano d'Abruzzo, anche in questo caso daremo uno sguardo ai titoli della prima pagina, ovviamente argomenti che riguardano il capoluogo teatino e la provincia di Chieti, il titolo principale riguarda proprio Chieti, in pratica il teatro Marruccino senza finanziamenti, come leggiamo da questo titolo, il Marruccino avrebbe perso, viene però usato il condizionale, quelli del Ministero, si parla di finanziamenti ministeriali di cui non avrebbe beneficiato il teatro Marruccino. Poi la fotonotizia, ancora Chieti, lo studentato chiude, gli universitari vanno via, partito lo sgombero delle stanze al villaggio mediterraneo di Chieti Scalo, poi le cronache, trasporti pubblici, panoramica e arpa, biglietti più cari, ad Ortona ad Ottavio il sindaco, a zero di nuovo la giunta e poi a Lanciano mezzanuda sul corso la sexy star passeggia senza vestiti. e andiamo a vedere ora l'edizione di Teramo del quotidiano Il Centro, ovviamente ci sarà spazio anche sul giornale di oggi per le vicende del Teramo Calcio perché questi sono giorni importanti per la società bianco-rossa, nelle prossime ore ci sarà probabilmente giovedì il secondo grado per l'inchiesta che vede coinvolta la società del presidente Campitelli, poi venerdì dovrebbe esserci il giudizio e tra l'altro vi anticipiamo che oggi alle 18 ci sarà invece una giornata importante a Pescara all'Aurum per quanto riguarda il calcio di serie B perché ci sarà, verranno resi noti i calendari del campionato cadetto, ci sarà questa cerimonia che si terrà proprio a Pescara, ci sarà tutto il mondo del calcio di serie B nel capoluogo adriatico e noi con il nostro Alfredo Giovannozzi e il collega Enrico Rocchi vi proporremo la diretta di questa manifestazione, di questa cerimonia dalle 18 di questa sera. Allora torniamo al centro, edizione di Teramo del quotidiano d'Abruzzo, la cronaca in primo piano sbalzato dalla moto è grave, pagliare di Morrodoro, Fornaio di Castelnuovo si scontra con un'auto, poi nuovo cinema smeraldo con 7 sale, 730 posti, la riapertura in autunno, proseguono i lavori e poi le cronache Teramo, il comune darà un altro asilo nido ai privati e poi ennesimo colpo, banda che ha svaliggiato il municipio di Sant'Omero e poi come dicevamo, verso il processo per quanto riguarda il Teramo, Campitelli voglio soltanto la serie B, come vedete nei titoletti delle cronache che poi ritroveremo anche nella pagina dello sport. Noi chiudiamo con le prime pagine del quotidiano Il Centro, andando a vedere fra qualche istante l'edizione dell'Aquila del quotidiano d'Abruzzo e poi passeremo al messaggero e inizieremo a dare uno sguardo ai titoli di cronaca nazionale, quella di ieri tra l'altro è stata una giornata nera per le borse europee, anche per quella di Milano che ha chiuso con un pesante segno negativo proprio dopo le notizie non confortanti che sono arrivate dalla borsa di Shanghai, un po' anche dalla Cina perché prosegue questo momento negativo per il paese asiatico. Allora prima di andare a vedere, lo faremo tra qualche istante, l'edizione dell'Aquila del Centro, allora direi di andare a vedere invece il messaggero, iniziando dunque a dare uno sguardo proprio ai titoli di carattere nazionale del quotidiano di Roma, partendo dalla prima pagina proprio che affronta l'argomento di cui stavamo parlando qualche istante fa, terremoto Cina, sulle borse il crollo di Shanghai travolge tutti i mercati, mai così male dal 2008 bruciati oltre 400 miliardi, vedete Milano perde il 5,9%, Atene il 10%, Wall Street il 3,5% e poi ancora altri argomenti nella prima pagina del messaggero, PIL italiano crescita a rischio, in bilico l'obiettivo del più 1,4% nel 2016 e poi il focus, svalutazione dello One, Grexit e Greggio, i perché del crack vengono esaminati in questo articolo. Poi Casa Monica, strigliata di Gabrielli, il prefetto parla e dice cose importanti dopo quanto accaduto nei giorni scorsi e poi mafia capitale, Marino sotto tutela, il prefetto cambiamo sistema, giubileo più controlli sul comune e poi il caso Marover, detto del Tribunale del Mare, non sarà l'India a decidere, Girone però non può tornare. Ancora titoli in prima pagina del messaggero, uno in particolare, Caos migranti, per la Merker la colpa è di Italia e Grecia. Andiamo avanti, allora, pagina 2 del messaggero, la Cina travolge le borse mondiali, Milano perde il 6%, crolla il petrolio, i mercati rivivono il panico del crack della Lehman e corsa le vendite, Shanghai giù dell'8,5%, l'Europa brucia altri 411 miliardi di euro e poi i cambi, l'euro sale sul dollaro, stabile lo spread. E poi sotto c'è l'analisi, l'intervista ad Alain Sinai, economista americano, che dice non ci sarà una nuova recessione, solo una correzione fisiologica, effettivamente negli ultimi mesi le borse avevano corso e dunque probabilmente questa battuta d'arresto, come dice Sinai, è in un certo senso fisiologica. Pagina 3, piazza affari, metà titoli sospesi e la peggiore giornata dal 2011, congelati generali intesa, Fiat, Eni, che hanno registrato perdite fino al 7%, il precedente di 7 anni fa, quando la borsa ha chiuso in rosso di oltre l'8%. Andiamo avanti, pagina 5, c'è un approfondimento proprio in chiave economica di quanto è accaduto negli ultimi giorni, nelle ultime ore in particolare, si parla di PIL, di prodotto interno lordo, di tassi e di Grecia, così la tempesta, un cataclisma finanziario, viene definito dal messaggero, che ora rischia di condizionare l'economia globale, timori amplificati dalla poca trasparenza. E poi, vedete il titolo in fondo pagina, cambi Stati Uniti in pressing su Pechino, si allontana la stretta monetaria, tutto è partito proprio dalla crisi che sta attraversando il dragone. Pagina 6, siamo alla cronaca nazionale, a Roma in particolare, bufera a casa Monica, Gabrielli, scusate, prefetto, dice fatto grave, poi arriva la strigliata, polizie e carabinieri, il prefetto duro con i vertici delle forze dell'ordine, ma non rotoleranno teste, ha detto Gabrielli. Nasce intanto un nuovo modello di coordinamento, vedete le foto e le immagini del giorno dei funerali, dell'esponente della famiglia casa Monica, e poi giornalisti Rai nel Mirino, truppa aggredita da due del clan ai domiciliari, e poi Don Bosco, il vescovo ammonisce il parroco, stop della questura alla messa di suffraggio. Andiamo a leggere questo risvolto, niente cortei per la celebrazione, domani a Morena, si svolgerà in forma strettamente privata questa messa di suffraggio. Pagina 7, mafia capitale, niente commissario, ma stretta sui poteri per Marino. Giovedì il Consiglio dei Ministri deciderà se sciogliere il Comune di Roma, un ruolo centrale per Gabrielli, della relazione anche dei focus ad hoc, realizzati su 101 personaggi presenti in un documento riservato. Pagina 8, la vicenda di Marò, il Tribunale dice, Girone non rientra ma stop ai processi, l'Italia risponde, insistiamo, il verdetto di Hamburgo, l'India si fermi, dovrà decidere l'AIA. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Rio ammette, ci aspettavamo di più, Nuova Deli, delusa, dunque questa decisione del Tribunale di Hamburgo di fatto non accontenta nessuno. E intanto il Ministro degli Esteri Gentiloni dice bene, l'Alto Lala, giustizia indiana, il padre di Salvatore, noi familiari siamo un po' arrabbiati. E poi in basso c'è il conseto approfondimento con Luigi Daniele, professore ordinario di diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea all'Università Roma Tor Vergata che dice, rispettati i diritti di entrambi i paesi, adesso evitare che la torre torni là, ovvero in India. Pagina 8 del messaggero Palazzo Chigi è un successo ma ora il timore è per i tempi, secondo Renzi adesso per gli indiani diventa impossibile rifiutare l'arbitrato e spera ancora nell'intesa diplomatica e la strada per riportare a casa il fuciliere. Ancora avanti, migranti, lo schiaffo di Merkel all'Italia, aprite i centri di riconoscimento. La cancelliera con il francese Hollande sollecita i paesi mediterranei e dice ritardi inaccettabili, intervenga l'Europa. Merkel scarica le responsabilità sull'Italia e poi in Germania allarme xenofobia. I neonazi assaltano gli stranieri, il governo prepara un piano di dieci punti per tutelare l'Unione Europea, aiuti agli stati africani e rimpatri più veloci. Pagina 11, intanto Renzi detta le sue condizioni, basta Dublino dividersi i profughi. Palazzo Chigi conferma la sua linea, regole dell'Unione Europea vecchie, bisogna cambiarle le 40.000 persone da ridistribuire, dice il Premier, per Roma sono una quota irrisoria. A proposito di Renzi, poi ne parleremo quando andremo ad affrontare i titoli, a leggere insieme i titoli di carattere regionale, vi anticipo che nel pomeriggio il Presidente del Consiglio sarà in Abruzzo e in visita all'Aquila. Dalle ore 17 e 17.30 ci sarà poi anche una visita ai laboratori del Gran Sasso, dunque Presidente del Consiglio nel pomeriggio in visita proprio nel capoluogo regionale, ma ne parleremo più tardi. Torniamo ai titoli, alle pagine del messaggero. Milano rivolta dei richiedenti asilo, in mille sbarcati a Cagliari. Pagina 13 del messaggero, unioni civili. Il Governo stoppa CEI ed NCD. Bagnasco non molla, c'è differenza rispetto alle famiglie. Area popolare da battaglia e apre il fronte dell'utero in affitto. Tensione nella maggioranza, del rio è però categorico, in Parlamento tutte le riflessioni, ma questa legge si farà dunque da una parte la conferenza episcopale italiana e il nuovo centro-destra, dall'altra il Governo sulle unioni civili. A proposito di politica, in questo caso vediamo notizia che è ufficiale già da ieri, l'ex ministro Nunzia Di Girolamo lascia Alfano e dunque NCD e torna con forza Italia. In basso la sfida di Salvini, leader della Lega, che dice sì alle primarie, ma Berlusconi risponde, decido io. Proseguiamo, pagina 14, cronaca internazionale. L'Isis, la Libia e la porta per arrivare in Italia, fonda l'Emirato Assirte. Sul web un nuovo video con le minacce a Roma, nella città della Tripolitania, sostituiti i tribunali con la Corte della Sharia, che sarebbe la legge coranica. E poi il caso, strage sventata ai mondiali di Pokémon, due giocatori fermati con fucili e coltelli a New York. Pagina 15, si parla di salute, diabete, si può prevedere cinque anni prima, uno studio italiano introduce nuovi parametri di lettura di un'analisi semplice e poco costosa, la curva glicemica. La diagnosi è valida anche per soggetti che non sono a rischio, la malattia in forte espansione colpisce 3 milioni e mezzo di italiani. Poi la cronaca, Rimini per lo vedorse letale, fermata famiglia di Puscher, madre e figlio in possesso di 90 grammi di eroini accusati della morte della donna di 37 anni. E poi opere abusive a Palermo, demolizioni al Via, nella Valle dei Templi. Siamo alle pagine dell'economia, come dicevamo, giornata nera ieri per le borse, in questo caso però si parla di banche, Monte dei Paschi e Banca Veneto al varco della Banca Centrale Europea. E poi all'Italia, Ogan in Calza, su Fiumicino, il capo di Etiade, dice che dopo l'incendio serve una risposta in grado di ricostruire la fiducia dei passeggeri di economia. Abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, nella primissima parte di questa rassegna stampa, ma anche nei giorni scorsi, perché come dicevamo, quella di ieri è stata una giornata ancora una volta negativa per le borse europee, per quanto è accaduto in Cina e soprattutto per la borsa di Milano, che come avete visto ha chiuso con un meno 6%. Allora andiamo a vedere, prima di aprire come sempre alle 7.20 circa la pagina del meteo, le pagine regionali del Messaggero, per andare a vedere quali sono i titoli delle due pagine di cronaca regionale del quotidiano romano nel suo inserto abruzzese. Come vi avevo anticipato qualche istante fa, quella di oggi sarà una giornata importante per la nostra regione, perché ci sarà la visita in Abruzzo, in particolare all'Aquila, del presidente del Consiglio Matteo Renzi, che in mattinata sarà al meeting di Rimini, poi a Pesaro e nel pomeriggio, a metà pomeriggio, dalle 17.00-17.30 sarà all'Aquila proprio per visitare il capoluogo regionale, e come detto anche i laboratori del Gran Sasso. Allora vediamo la prima pagina della cronaca d'Abruzzo del Messaggero, ecco qui il titolo principale, non poteva che essere quello sulla prima volta di Renzi all'Aquila, Comune, Villa e Gran Sasso, dalle 17.30, il Premier visita il capoluogo, si cercano conferme sul maxistanziamento di oltre 6 miliardi per la ricostruzione, e poi altri argomenti, mare sporco a Pescara, l'Arta si sveglia, depuratore rotto già inizio luglio, e poi la Boldrini, presidente della Camera, in vacanza a Pesco Costanzo, vacanze abruzzesi dunque per il presidente della Camera dei Deputati. E poi il dietro front, Beffa di Salamon, il Pescara perde i pezzi, il difensore arriva per firmare, ma il Cagliari alza l'offerta e lo ingaggia, e dunque il Pescara si troverebbe senza Salamon, quando sembrava che fosse tutto concluso. E poi, come vi dicevo anche prima, quella di oggi è la Kermess all'Aurum di Pescara, il giorno dei calendari, dalle 18, questa importante giornata e importante vetrina per Pescara e per l'Abruzzo sportivo. Seconda pagina dedicata proprio alla cronaca regionale dal messaggero, ecco qui, torniamo al presidente Boldrini in vacanza, Pesco Costanzo, dopo la Lorenzin, arriva la quarta carica dello Stato, proprio in terra abruzzese, per qualche giorno di riposo, prima dell'inizio dell'attività politica, proprio al termine delle vacanze. Poi si parla di politica in quest'altro articolo di spalla, politica regionale, D'Alfonso, il governatore della regione, via libera all'ingresso in giunta di Gerosolimo. Oggi l'incontro decisivo fra il presidente e i ribelli del centro-sinistra. Dunque è possibile, probabile, un rimpasto. Vediamo nel dettaglio, Monticelli Darapino, segretario del PD, distanze immutate, ma Paolucci avverte, i singoli non possono avere diritto di veto. I beni informati dicono che questo mini rimpasto dovrebbe vedere l'ingresso in giunta proprio dell'esponente di Abruzzo Civico Gerosolimo al posto dell'attuale assessore all'ambiente, Mazzocca, che potrebbe prendere la presidenza della Commissione Sanità Regionale. Ma queste sono indiscrezioni. E poi Pietrucci dice, attenti, il mercato non è lo stesso per tutte le istituzioni e le manifestazioni. E dunque vedremo nelle prossime ore quale sarà e se ci sarà questo rimpasto in giunta. Sono le 7 e 20 minuti. Dunque questa volta con puntualità a Quasi Svizzera possiamo aprire come di consueto la pagina del meteo andando a salutare il nostro meteorologo Giovanni De Palma. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, è terminata la fase di fresco, se così possiamo dire. Da ieri pomeriggio, correggimi se sbaglio, è tornato il caldo. Soprattutto credo anche tassi di umidità piuttosto elevati. Ieri pomeriggio a Pescara, perlomeno a Pescara, si sudava e non poco. Cosa ci attende per la giornata di oggi? E per questa settimana, anche se siamo all'inizio di questa settimana, se possiamo allungarci ovviamente compatibilmente con le previsioni in tuo possesso proprio a fine mese, visto che arriveremo agli ultimi giorni di agosto? Sì Paolo, rispetto ai giorni scorsi le temperature sono aumentate perché la nostra penicola è sotto influenza di correnti occidentali, più di altro sud-occidentali, che interessano anche la nostra regione. Si tratta di masse d'aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale che sulle regioni settentrionali stanno dando luogo a dei fenomeni temporaleschi anche di forte intensità, ma non solo al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche. La nostra regione è al margine di questo tipo di circolazione, quindi ci sono stati ieri degli annungolamenti, ma anche un rinforzo dei venti occidentali sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sull'estante di viaggi, che lì c'è stato anche un aumento delle temperature, un aumento anche ad un graduale e progressivo aumento dei tassi di umidità lungo la fascia costiera. Ora la soluzione, Paolo, continuerà almeno per le prossime ore, fino alla giornata di domani, ad essere caratterizzata dal passaggio di questi corpi lungolosi. Però attenzione perché nelle prossime ore saranno possibili delle formazioni temporalesche sulle zone montuose, a partire dal clore centrale della giornata nel corso del pomeriggio. Questi fenomeni poi potrebbero estendersi localmente verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul vestante di adriano. L'instabilità continuerà a manifestarsi, anche una notata nelle prime ore della mattinata di mercoledì, tant'è che sussiste la possibilità di formazioni temporalesche stavolta non solo sui rilievi, ma anche lungo la fascia costiera. Paolo, quindi attenzione a stasera e stanotte, perché potrebbero formarsi dei temporali anche lungo la fascia costiera. Saranno gli ultimi fenomeni di instabilità, dove lì che assisteremo ad un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche, ne avevamo parlato già nei giorni scorsi, a causa della progressiva rimonta di un vasto promontorio di alta pressione di matrice nord-africana che non solo favorirà condizioni di tempo stabile prevalentemente toleggiato, ma determinerà un deciso aumento delle temperature. È chiaro che non raggiungeremo i valori che abbiamo avuto nelle scorse settimane prima del peggioramento che ha favorito la generale diminuzione delle temperature. Tuttavia si tratterà di un clima decisamente estivo, quello in arrivo, quindi continuerà l'essate, ma soprattutto aumenteranno i tassi di umanità lungo la fascia costiera. Quindi tornano caldo ed afa, anche se i valori previsti non saranno ovviamente da record. Quanto durerà Paolo? Alla luce dei dati attuali a nostra disposizione, almeno fino ai primi giorni di settembre. Questo è quello che emerge osservando gli ultimi aggiornamenti, poi gradualmente sembra possibile un nuovo cedimento di questa struttura di alta pressione, ma è chiaro che comunque ci avviciniamo all'autunno e la circolazione atmosferica inizia a cambiare le correnti atlanti che iniziano ad essere più vivaci. Di conseguenza insomma è decido a aspettare un cambiamento proprio nei primi giorni di settembre, ma di questa situazione ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti. Grazie Paolo, grazie Giovanni, sei stato più che mai esaustivo, quindi ci sarà bel tempo, almeno fino ai primi di settembre, con temperature calde saranno soddisfatti quelli che andranno in ferie nei prossimi giorni. Grazie a Giovanni De Palma che ritroveremo domani. Buona giornata e buon lavoro. Grazie Paolo, buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di Tirusei. Ringraziamo Giovanni De Palma come sempre per queste puntuali previsioni del tempo per la nostra regione. Gli strumenti sono quelli che ormai conoscete bene per essere sempre informati. Abruzzometeo.org, il sito diretto dal nostro meteorologo Giovanni De Palma e poi la pagina Facebook che potete utilizzare per interagire con Giovanni De Palma. Dunque rimanere più che mai informati sull'evoluzione meteo, sulle previsioni del tempo per l'Abruzzo e per le zone che interessano della nostra regione. Allora prima di fermarci per qualche istante abbiamo il tempo per andare a vedere la pagina d'Abruzzo del quotidiano Il Centro poi nella seconda parte vedremo le pagine provinciali. Allora parlavamo prima del rimpastino di settembre così viene definito dal centro come vi anticipavo l'assessore Mazzocca lascerebbe e d'obbligo il condizionale per la presidenza della Commissione Sanità al suo posto Gerosolimo e poi in basso a metà a centropagina per meglio dire parla l'assessore alla Sanità Paolucci che dice il disavanzo della regione a quota 538 milioni. Fondopagina si parla di caccia parte la stagione tutte le date preapertura il 2, 5 e 6 settembre via parziale dal 20 settembre apertura generale dal 3 ottobre e poi il titolo di spalla i balneatori della CNA risanare i fiumi con i fondi dell'Unione Europea non spesi dunque c'è questa proposta dei balneatori della CNA. Allora prima di fermarci possiamo già iniziare a vedere le pagine provinciali del centro partendo da Pescara perché questa prima pagina riguarda la vicenda dell'acqua inquinata mare sporco balneatori rivolta in fuga anche i clienti più fedeli i 23 titolari degli stabilimenti del Consorzio Ciba denunciano un crollo delle presenze in spiaggia un legale e un pool di esperti per accertare responsabilità delle istituzioni si va, c'è il punto interrogativo verso la richiesta di danni noi ieri abbiamo ascoltato gli esponenti della Ciba andiamo a vedere il servizio Noi non possiamo accettare che questa sia una situazione su cui noi non possiamo agire noi vogliamo a differenza degli altri fare degli esposti no, noi vogliamo ricostruire la vicenda dal 96 ad oggi capire chi è l'ente che deve gestire questa cosa chi ha la maggiore responsabilità chi deve fare qualcosa andando persino nei consigli comunali regionali a far sì che risorse siano spostate sulla pulizia dei mari e dei fiumi perché si deve capire necessariamente e si fa anche tramite un avvocato anche tramite un pool di esperti che la risorsa primaria di questa città è il fiume e il mare e quindi non può adesso essere considerato come ultimo penultimo argomento nell'ordine del giorno delle varie amministrazioni o dei vari enti che sono preposti a controllare questo noi vogliamo capire tutta la vicenda fare tutto quello che è necessario per andare avanti e capire e poi noi proporre qualcosa anche economicamente vantaggiosa per le amministrazioni purché questa situazione migliori voi siete arrabbiati? sono arrabbiatissimo soprattutto per come è stata condotta la situazione e poi sono ancora più arrabbiato per l'articolo che ho letto oggi in cui anche un altro amministratore nel 2012 si è tenuto nel cassetto un'ordinanza di divido di bagnazione in una zona centrale voglio capire perché prima lui si è elevato al grande risolutore della salute dei cittadini e nel 2012 ha fatto la stessa cosa che ha fatto il sindaco Marco Alessandrini glielo vorrei tanto chiedere di persona se è possibile grazie questo è il servizio realizzato con gli esponenti della Ciba allora andiamo ancora a vedere per lo stesso argomento questa pagina del centro la replica di Fiorilli a Presutti dice l'ex vicesindaco sempre applicato i divieti e poi in basso depuratore colibatteri 50 volte oltre i limiti allarme inquinamento al confine con Francavilla l'arta rende note solo ora le analisi di un mese fa allora noi possiamo fermarci per qualche istante poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 seconda parte di mattino 6 eravamo alle pagine di Pescara del centro ancora cronaca dal capoluogo adriatico Guerino il comune lancia l'ultimatum per i lavori bloccati del vecchio annuncio all'invio di un sollecito all'imprenditore Paglione se non arrivano chiarimenti revochiamo la concessione noi ieri abbiamo ascoltato il presidente della commissione gestione del territorio Ivano Martelli che ha parlato proprio di questa vicenda ai nostri microfoni quello è un fabbricato che è lì ormai da dieci anni non si è proceduto alla ristrutturazione completa ci sono state ulteriori proroghe per fare in modo che l'imprenditore facesse diciamo quelle operazioni di ristrutturazione non sono state ultimate credo che la città non possa più permettersi di avere al centro nevralgico turistico della città un manufatto come quello ancora in situazioni diciamo di ristrutturazione ma comunque in qualche modo di degrado proprio ai nostri microfoni l'ex consigliere regionale di rifondazione comunista Maurizio Acerbo un po' lanciato il sasso nell'acqua dicendo che il comune non sta facendo quello che dovrebbe la risposta del presidente della commissione qual è? Guardi io credo che adesso non voglio fare nessuna polemica con Maurizio Acerbo lui ha fatto presente un problema che effettivamente c'è e che c'è ancora e c'è da tanti anni anzi direi che ci sono passate varie anche legislature e su questa cosa probabilmente qualcuno doveva guardarci dentro prima ma in ogni caso la mia non è una polemica con Maurizio Acerbo io ho fatto soltanto presente che mentre lui diceva che l'amministrazione comunale non si occupava di questo problema io invece ho smentito questa cosa perché da parte nostra da parte mia con qualità di presidente della commissione gestione del territorio c'è stata da mesi ormai una presa di posizione su questa cosa abbiamo convocato diverse commissioni abbiamo convocato gli uffici comunali per capire come stavano come stavano le cose quali erano le carte e abbiamo diciamo invitato gli uffici affinché venisse revocata questa concessione e penso che loro anzi sono certo che loro si stiano attivando in tal senso andiamo avanti si parla di stadio adriatico 90 posti riservati ai disabili domani cominciano i lavori di adeguamento degli spazi dello stadio dunque più ancora più posti per i disabili una buona notizia anche per l'associazione carrozzine determinate che aveva sempre spinto proprio sull'ampliamento del settore proprio riservato ai disabili e lo stadio adriatico andiamo ancora avanti un'altra pagina del centro ladri smascherati su internet rubi biciclette nei negozi io mi difendo con facebook sotto la criminologa Bruzzone dice sì ai social per sfiducia verso le istituzioni ancora avanti pagina 18 giochi in spiaggia discoteche e concerti 11 giorni di festa come dicevamo questa mattina verrà presentata la prima edizione a Pescara dei giochi del Mediterraneo sulla spiaggia che prenderanno il via il 28 agosto per concludersi il 6 settembre una 10 giorni davvero di grandi eventi per la città di Pescara che ricordiamo nel 2009 aveva ospitato i giochi del Mediterraneo siamo ancora a Pescara il Trisavolo scomparso ritrovato dopo un secolo una studentessa di 19 anni di Manoppello ha scoperto nel Sacrario di Oslavia i resti del nonno di suo nonno morto durante la prima guerra mondiale e poi in basso nozze d'oro con il diploma di maturità festa al Medusa con i ragazzi dell'ITIS che divennero tanti anni fa periti elettronici una bella rimpatriata è il caso di dire siamo alla cronaca di Montesilvano del centro colpo sventato ladre messi in fuga e inseguite dai pitbull salta e furto in casa dopo aver forzato un cancello hanno incrociato tre cani che le hanno spaventate in auto le aspettava un complice e poi la polemica politica Liano attacca la di Costanzo dice il PD dovrebbe fare ammenda un dono alla città degli arciduchi d'Austria in piazza Guimoli il monumento ai caduti inaugurato con i rappresentanti della Casa Reale d'Asburgo siamo ancora a Montesilvano e alle altre cittadine della provincia di Pescara restando a Montesilvano quartieri sporchi e spesso al buio città poco ospitale l'ex comandante Agostinone e altri cittadini spiegano come è stata tradita la vocazione turistica di Montesilvano e poi in basso a Moscufo la minoranza più sanzioni a chi viola il codice stradale e a Spoltore pochi iscritti a Caprara la scuola a Cerbo chiuderà andiamo ancora avanti siamo alle pagine sempre dell'Interland di Pescara Francavilla premio Mumi raddoppia e abbraccia altri comuni e poi in basso a Manopello operativo il bar ristorante nel berro del Pellegrino mentre sempre a Francavilla oggi la grande festa dei centenari sono sette i nonni della città per tutti stile di vita sobrio e senza stress Cronaca di penne Popoli Alta Val Pescara siamo a Popoli in particolare Scuola Polini 1.400.000 euro dalla regione per i lavori e poi Caramani con un'escursione nell'orfento affarindola in chiesa il suono del corno e a Scafa altri fondi per la piscina in basso a San Valentino un coro al gemellaggio catalano il gruppo di tradizioni abruzzesi sarà in Spagna il 29 con John Forcone e a Penne è stato approvato lo statuto si vuole il distretto turistico la città si candida ad ospitare la sede provinciale nell'ex tribunale e siamo alla pagina di Chieti del centro la cultura picco il maruccino senza i soldi del ministero il PD dice il Mikbat ha privato Chieti di oltre 150.000 euro perché non ha rispettato alcuni parametri del teatro di tradizione e poi vasto Cronaca Picchia Compagno e Poliziotti 34enne arrestata e poi cambio al Megalo con la nuova direttrice nel centro commerciale di Chieti Scalo e poi questa notizia singolare che arriva da Lanciano la sexy star mezzanuda Rinaldin Reggiseno e Slip per protesta contro Renzi sguardi increduli lungo Corso Trento e Trieste ancora avanti l'Aquila oggi è il giorno di Renzi ne parlavamo prima il premier due ore in città la visita più volte annunciata prevista nel pomeriggio di ritorno da Rimini e Pesaro a Palazzo Fibbioni saluto istituzionale vertice con le categorie alla villa comunale giornata importante sicuramente per l'Aquila poi Di Stefano di Forza Italia dice Celestino ha fatto il miracolo mentre in basso vedete il programma della visita del premier e poi questa notizia che arriva da Avezzano invece si sposi pronti a pronunciare il sì ma trovano il comune chiuso salvati dall'uscere che era in ferie cronaca di Teramo del centro tentato omicidio a Pineto se non sicura potrebbe colpire ancora sono state rese note le motivazioni dei giudici che hanno assolto per incapacità il giovane che voleva mangiare i piedi di una donna e poi Ictus in albergo turista salvato al Mazzini un uomo di Reggio Emilia si sente male a Giulianova sottoposto ad un intervento innovativo e poi Miss Abruzzo si sceglie a Teramo mentre a Campi Mercuri di Colledara trionfa nella sagra della porchetta siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a leggere ancora le pagine provinciali del messaggero e poi della città partiamo dal messaggero cronaca dell'Aquila Riva Renzi è l'ora del confronto comune Villa e Gran Sasso Science Institute Tour de Force dalle 17.30 per la prima volta nel capoluogo del Premier sul tavolo come si legge il maxi stanziamento di 6 miliardi per il post-sisma gli sgravi fiscali multati dall'Europa la stabilizzazione dei precari e poi la Passio Ominis a San Bernardino spettacolo simbolo della storia del teatro stabile abruzzese e poi Tratturo Magno sventata la vendita e poi si parla anche di asili di scuole niente rinnovi asili nido in bilico l'assessore però dice non chiuderanno ancora avanti seconda pagina dell'Aquila dal messaggero Taffo non c'è stata nessuna truffa l'ex presidente scusate c'è un problema ecco qui l'ex presidente della Confartigianato prende le distanze dall'indagine del sostituto procuratore Aquilano Picardi secondo l'accusa sarebbero stati raggirati l'ente camerale la regione illegale dice le somme contestate sono rimborsi dovuti andiamo avanti a giudizio imprenditori responsabili del provveditorato delle opere pubbliche il caso riguarda la ristrutturazione della caserma Campomizi la prima udienza l'11 novembre e poi cronaca coltivavano marihuana oggi davanti al giudice post sisma macerie pubbliche via la rimozione nel capoluogo e nei comuni del cratere e poi ripristiniamo il poliziotto di quartiere la proposta del sindacato di polizia siamo alla pagina di Avezzano Sulmona del messaggero sosta selvaggia ambulanza bloccata in ospedale in via Montevelino e al policlinico di vieti non rispettati il centro dei diritti del cittadino il caos traffico è totale ancora avanti ad Avezzano prostituta picchiata il giovane accusato ha negato tutto a Sulmona il comune moroso con l'Enel la città rischia di restare al buio è sempre in Valle Peligna è sempre a Sulmona concorso per disabili c'è il dietro front semaforo in tilt incidenti con tre feriti sempre nella cittadina della Valle Peligna siamo alle pagine di Pescara del messaggero giochi del Mediterraneo lo sport va in spiaggia le gare da venerdì fino al 6 settembre traffico rivoluzionato vi dicevo questa mattina alle 11 conferenza stampa di presentazione per l'evento poi più posti per i disabili via i lavori allo stadio adriatico l'assessore Diodati annuncia l'intervento sollecitato da Claudio Ferrante di carrozzine determinate e poi due barche del club nautico ai campionati italiani di vera d'altura pagina 2 fuga dalla spiaggia i balneari schierano i legali agosto nero negli stabilimenti degli associati del Ciba Cardelli è così da 20 anni è il momento di dire basta abbiamo visto il servizio qualche minuto fa e poi Fosso Pretaro restano i divieti e Fiorilli smentisce Presutti l'Arta sapeva il seluglio dei problemi al depuratore poi lo sfiducia dei caccia alla firma decisiva in comune a Pescara ieri la manifestazione dei 5 stelle andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato con Francesca Romana Testi sfiducia dei contanto di cartellone dei consiglieri per segnare pubblicamente i sì e i no il Movimento 5 Stelle l'aveva annunciato da giorni la richiesta è quella di togliere la fiducia al sindaco di Pescara per non aver reso pubblica l'ordinanza che vietava la balneazione nelle acque cittadine a causa degli alti valori dei coli batteri vogliamo ottenere la sfiducia del sindaco Marco Alessandrini mandarlo a casa perché riteniamo che sia una responsabilità del consiglio comunale che è il terzo organo di governo di mandare a casa un sindaco che ha mentito alla città e che ha attuato una gravissima omissione rispetto appunto al problema della balneabilità questa mattina abbiamo invitato anche il centrodestra a elaborare un documento congiunto perché diversi giorni dopo il nostro annuncio la nostra mozione il centrodestra ne ha presentata un'altra perché ci servono 13 firme ad oggi ne abbiamo 12 per poterla invece votare quindi mandare a casa il sindaco servono invece 17 voti da parte quindi di una posizione in maggioranza pensate che riuscite ad ottenere questi voti? noi speriamo che ci siano alcuni consiglieri mi riferisco ad esempio a SEL Sinistra Ecologia e Libertà che credo debba assolutamente esporsi rispetto a un tema del genere anziché continuare a sostenere un sindaco che oltre a questo problema ha anche messo le tasse al massimo i prossimi dieci anni poche adesioni anzi pochissime servono voti anche da parte di membri della maggioranza ed è allora che i grillini incontrano un consigliere che neanche a dirlo fa parte della categoria dei balneatori Riccardo Padovano che per tutta risposta dice di essere tranquillo e di non temere per la sua salute né per quella di chi si immerge in acque pescaresi un siparietto che va avanti qualche minuto davanti agli occhi incredoli di cittadini esponenti 5 stelle non si può accettare un sindaco che non dice ai cittadini che il mare inquinato è accettabile secondo te il sindaco non l'ha detto non l'ha detto no non l'ha detto a nessuno un sindaco fa un'ordinanza che non l'ha consentendo ai cittadini di farsi il bagno che adesso non vogliono pagare l'ombrellone vogliono fare il bagno i bagnari sono tutti in protesta in polemica io da cittadina voglio decidere io se andare al mare e rischiare o no quindi devono essere messi al corrente di ciò che accade in questa spiaggia se permette non dobbiamo decidere non ho un problema per me se uno si fa a leggere sindaco non lo fa ma parla di suo problema però voglio sapere se a Pescara l'acqua è banneabile è banneabile? ci sta un caso di Pescara che non è banneabile dovuto non si con l'abbia filmato non ha filmato ma perché ne andiamo a vedere il problema non è se è banneabile o non banneabile il problema perché non è filmato il sindaco deve garantire che quando non è banneabile le persone non vadano a farsi il banne il sindaco deve fare certa polemiche dunque fra i consiglieri comunali di Pescara sulla questione della banneabilità del mare Pescara area metropolitana 100 cinchiali da abbattere in tre mesi scattano le misure per contrastare l'invasione nei campi in base all'accordo sigrato tra gli enti per la Val Pescara e poi proteste a Montesivano perdite d'acqua potabile strade allagate andiamo avanti cronaca di Chieti Maruccino persi i fondi del ministero smacco la città teatro di tradizione mancherebbero acquisiti minimi viaggiare con l'autobus costa di più ecco le tariffe poi Carmen Galliani vince la tappa teatina di Miss Mediterraneo e poi a San Martino Malori per i cattivi odori il caso finisce in procura cronaca di Lanciano vasto Ortona picchia convivente agenti arrestata è successo a Lanciano vasto anti abusivismo controlli anche sugli acquirenti a Ortona il sindaco d'Ottavia Zera la giunta seconda volta in tre anni e sempre a vasto New Acoustic Music Festival via ai concerti al Davalos proseguiamo cronaca di Teramo sempre dalle pagine del messaggero il corso cade a pezzi nell'attesa dei lavori buche pezzi di porfido staccati a rischio la sicurezza di chi passa e poi il ancora degrado che fino a fatto il piano di recupero di via Piave di Buonaventura dice le casette basse a 900 mila euro e poi oggi la protesta di Mina Welby in campo con i disabili Teramani e poi la cronaca cinese si getta nel vibrato tentato suicidio e le polemiche dopo le polemiche scusate torna a Teramo lo show di Miss Abruzzo siamo alla pagina di Giulianova Roseto Val Vibrata cartelle pazze tari comune assediato a Giulianova lunghe code di cittadini che chiedono chiaramente l'ufficio tributi Verdecchia stiamo riesaminando tutto abbiamo trovato degli errori ed ora qualcuno rischia seriamente di essere spostato ad altro incarico Mastro Mauro il sindaco siamo un'orchestra chi non suona bene va sostituito ancora cronaca Giulianova all'ultimo momento salta lo stuntman show a Martinsicuro palazzine fuori legge residenti nei guai camaioni non rientrano nel piano regolatore alba adriatica con i vigili estivi stop ai venditori abusivi ancora Giulianova il mistero della spiaggia scomparsa sotto cumuli di terra e rifiuti a Pineto rischio idrogeologico intervento da 400 mila euro siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo ancora aspettare qualche attimo per parlare di sport perché abbiamo da leggere le pagine del quotidiano la città di Teramo la prima pagina che riguarda il calcio in particolare perché giovedì il giorno dell'appello il Teramo spera ancora per salvare la serie B entro sabato la sentenza e poi la fotonotizia finalmente Renzi arriva il premier all'Aquila e poi la cronaca in fin di vita dopo il botto in scooter Morrodoro 55enne si schianta contro una multipla sulla strada statale 150 andiamo avanti pagina 2 del quotidiano la città le speranze del Teramo processo bis giovedì appello entro sabato la sentenza scusate oggi in basso vedete a Pescara la presentazione del calendario di serie B con il presidente Abodi nella foto pagina 3 tutti a Roma per il diavolo campana ex assessore allo sport organizza i tifosi i gruppi ultra fanno da soli e poi c'è questo approfondimento il punto di Federico De Carolis Vivarini resta ma non in serie D pagina 5 cronaca regionale Matteo Renzi arriva finalmente in Abruzzo questa è la notizia ovviamente l'evento del giorno ancora avanti pagina 7 siamo alla cronaca di Teramo di Sabili anche Mina Welby sostiene la protesta la moglie dell'attivista radicale parteciperà alla riunione convocata in municipio per ridefinire i contributi alle famiglie e poi il borsino della politica aspettando la verifica di giunta che verrà vedete nella foto alcuni politici terramani che potrebbero essere interessati in qualche modo nel rimpasto di giunta se ci sarà pagina 8 700 posti al nuovo Smeraldo proseguono i lavori per la trasformazione del cinema in multisala sette schermi e poi Miss Italia allontanata dalla scalinata del Duomo e poi scuola nido altri tagli dalla regione Romanelli sera prende con l'assessore regionale Sclocco pagina della provincia di Teramo nuovo ponte sul Vomano ecco il progetto Castelnuovo pubblicato il bando di gara per l'opera pubblica si torna al progetto originario di sei anni fa Val Vibrata Martinsicuro torna balneabile il tratto di mare a nord del fiume Vibrata a Sant'Omero la banda del municipio colpisce ancora ladri al comune di Ancarano poi in quelli di Sant'Omero e alla città territorio e poi ad Alba Adriatica raccolta di firme per il sussidio agli italiani disagiati Tari nessuna proroga per le bollette pazze siamo a Giulianova e iniziati sopralluoghi nelle scuole della città via Bogliasco e dopo i botti una nuova segnaletica all'incorocio pericoloso e poi la delibera per allestire Giulia e venti estate usato anche il fondo di riserva del comune pagina di Roseto Pineto Atri pagliare di Morodoro scooter contro multipla 55enne in fin di vita centauro di Castelnuovo ricoverato nel reparto di rianimazione Atri chiesto il consiglio straordinario sugli impianti del centro turistico integrato e a Roseto finisce l'incubo di Coste Lanciano terminati infatti i lavori per la messa in sicurezza della discarica sul Tordino e venti Nicolino Mercuri nuovo re della porchetta questo l'esito della Sagra 44esima edizione che si è tenuta a Campi presenze record anche per questa edizione allora siamo alle pagine dello sport dopo aver visto quello quanto scritto dalla città di Teramo proprio sulla vicenda della Teramo Calcio andiamo a vedere le pagine di sport del centro e del messaggero partiamo dal centro dal Pescara in questo caso il Cagliari su Salamon Pescara tenta il rilancio i Sardi cercano di soffiare il difensore che però prende tempo e poi in basso Ferrari Pucino sono più vicini al Lanciano Domenico Albiondi test con Lascoli ormai Cragno è una telenovela slitta ancora la firma del portiere che però dovrebbe restare in Sardegna e poi la cerimonia all'Aurum dalle 18 Pescara capitale della serie B X e Y oggi nel calendario X e Y rappresentano nel calendario di oggi proprio Catania e Teramo queste due incognite in attesa dei processi di secondo grado ancora calcio l'Aquila forse torna per Petuini e c'è San Domenico in partenza serie D a Chiedi arriva Nairo lo manda Aldair e poi ecco la pagina dedicata al Teramo giovedì l'appello Campitelli ci crede ma quale Lega Pro il Teramo vuole la B dice il Presidente che non accetta soluzioni di compromesso ma la Procura potrebbe chiedere l'Ardì con penalizzazione stasera all'Assemblea dei Tifosi in Comune e poi per quanto riguarda il calcio di eccellenza il Baby Buffo dice sì a Francavilla mentre Bolzan va al Porto d'Ascoli siamo alla pagina del la pagina di Sport Vari del centro Lestini Regina del Biccio deciso lascio il volley poi Santo Anastasio costretto a letto combatte un male misterioso l'ex difensore del Chieti e del Francavilla auguri ovviamente di guarigione a questo giovane atleta ex difensore di Chieti e Francavilla e poi Pescara da venerdì capitale degli sport acquatici come dicevamo anche in precedenza oggi la presentazione dei giochi del Mediterraneo su spiaggia che si svilupperanno in tre aree l'ultima pagina di Sport del centro Calcio a 5 Capuozzo quanti errori ma Pescara in buone mani e poi Montesilvano lascia Mazzocchetti lo storico dirigente abbandona la formazione neopromossa in serie A l'ultimo titolo riguarda l'atletica di primio stabilisce il record regionale cadetti sui mille metri chiudiamo con le pagine dello sport del messaggero Pescara beffato da Salamon il difensore polacco arrivato domenica sera in città cambia idea dopo una maxi offerta da parte del Cagliari il giocatore si è preso qualche ora di tempo per decidere ma sembra ormai avviato a firmare con la squadra Sarda stasera all'Exaurum il calendario della nuova serie B noi a proposito del Pescara andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Massimo Oddo stiamo aspettando la risposta della società dell'Atalanta e del giocatore vediamo se accetterà ovvio che noi vogliamo essere anche sicuri che che la volontà sia massima da parte sia della gente ma soprattutto del calciatore perché non vogliamo andare su giocatori che non hanno voglia magari di scendere in B e di confrontarsi con questa categoria perché se non hai la testa giusta poi puoi essere un giocatore anche di da Champions League ma la differenza non la fai quindi dobbiamo essere sicuri anche di questa cosa spero che possa capire che questa è una squadra forte che ha grandi ambizioni e lui possa rigenerarsi rivigorirsi rilanciarsi per una carriera che ha davanti perché insomma è ancora molto giovane e da sfoltire quest'organico una decina di giocatori saranno prima o poi ceduti questa è la richiesta del tecnico ma sì questa sarebbe l'ipotesi migliore nel senso di lavorare con un gruppo omogeneo di non tantissimi giocatori e tutti all'altezza ovvio che bisogna fare delle scelte perché insomma lavorare con 40 giocatori è difficile gestire gli allenamenti e oltretutto c'è anche una lista di 18 giocatori quindi inevitabilmente qualcuno dovrà andare via e chi non dovesse voler andare via rimarrà fuori la lista perché purtroppo la lista è quella non è che possiamo inventarci qualcosa no questo è un Pescara che si è rinforzato sicuramente in difesa e e quindi magari prenderemo anche meno gol però bisogna farli perché se non li fai finiscono tutte 0-0 non che no no ma non è che un problema io ho degli attaccanti io ho degli attaccanti sicuramente di valore a partire da Sansovini che è un giocatore che ti garantirà sicuramente i suoi gol e altri che garantiranno i loro gol però diciamo che le caratteristiche per far sì che questa squadra si possa esprimere bene devono essere leggermente diverse in almeno un giocatore che in questo momento non abbiamo chi sa cosa penserà del possibile probabile mancato arrivo a Pescara di Salamon quando sembrava tutto deciso titolo di calcio a 5 i annascoli in Europa non ci sono gare facili domani il debutto per la formazione di Fulvio Colini favorita nel girone ma le avversarie sono un'incognita tornando a Pescara Memuschai si opera brutta notizia per la società adriatica starà fuori due mesi stasera all'Aurum il calendario della nuova serie B ne abbiamo parlato ampiamente confermato giovedì processo al Teramo l'avecato chiacchio accuse smontate punto per punto i tifosi si mobilitano questa sera appuntamento in municipio l'Aquila chiede l'azzeramento delle sanzioni Virtus Lanciano più vicino a Ferrari stop come dicevamo per Cragno che dovrebbe restare a Cagliari infine rugby tre abruzzesi nell'Italia mondiale calcio di serie D per il Chieti arriva il brasiliano Pandolfi siamo così giunti al termine dell'appuntamento odierno con la nostra rassegna stampa con Mattino 6 come sempre vi ringrazio per averci seguito vi ricordo alle 14 il primo appuntamento informativo della giornata per quanto riguarda la prima edizione del TG6 e soprattutto questa sera dalle 18 la diretta proprio sulla nostra emittente dall'Aurum di Pescara con Alfredo Giovannozzi ed Enrico Rocchi per la cerimonia ufficiale dei calendari di serie B un appuntamento davvero da non perdere con tante interviste in diretta con gli ospiti che saranno proprio ai microfoni di Alfredo Giovannozzi ed Enrico Rocchi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni con la rassegna stampa ovviamente domani alle ore 7 grazie e buona giornata grazie a tutti